ma è possibile imparare a parlare la lingua inglese da soli? beh se non ti interessa metterci degli anni ed essere completamente lasciato allo sbaraglio lasciato da solo durante l'intero processo di apprendimento che ti dico già prevede una serie di alti e bassi e nei bassi rischi di rimanere incagliato e decidere di mollare una volta per tutte allora la risposta è sì ma se invece vuoi davvero imparare a parlare inglese una volta per tutte senza metterci degli anni e soprattutto vivendo godendoti il processo allora non lo puoi fare da solo ti servono due cose in primis ti serve un mentor ti serve un coach una persona che sappia dirti passo passo cosa devi fare come farlo e in secondo luogo ti serve una community un gruppo di persone con le quali relazionarti e comunicare perché del resto vuoi imparare a parlare inglese giusto e quindi ovvio che avere l'interazione con altre persone è fondamentale tutto questo è incluso all'interno della promozione di globis express il mio nuovo programma inedito che include l'accesso alla nostra community con iniziative giornaliere settimanali e mensili ma soprattutto l'interazione h24 con i compagni e i nostri coach sempre a disposizione per rispondere a domande dare correzioni e aiutarti a monitorare i tuoi progressi e in più come se tutto questo non bastasse sono previste anche delle lezioni di speaking one to one perché del resto vogliamo imparare a comunicare in inglese con chiunque e dovunque nel mondo la promozione scade giovedì 30 novembre quindi che cosa posso dirti se non cliccare subito qui sotto e io ti aspetto in aula